Dopo gli esterni 3 minuti, il tempo finisce e penso che sia pronta, quindi sono passati 10 minuti per poterla togliere da rego, non so perché ho più 3 minuti, se non lo sapete niente, il tuo posto è andato in frigo, quindi sono passati 10 minuti, io lo tocco pertanto mezzo solete la torta, quindi vabbè, e se dovessi avere degli ospiti ovviamente non la toccherei con mano, ok. Non so perché ha questi puntini, non so dovevi scompare, sono uscite da fuori, allora leggiamo perché, è a massima velocità, vabbè, distribuisci la crema sul fondo e livella, poni la torta in frigo per almeno 2 ore, quindi dopo aspettiamo 2 ore per facciamola caddo, dai, che voleva vedere il risultato, sì, 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 eh vabbè ci vuole, dai, ok, ha detto di sì, ve l'ha promesso, se no poi di rompere le scatole sul gruppo di Whatsapp, vi taglielo Deborah, io la verso così in maniera un po' ignorante e prendi l'avversamento, il avversamento sul conto corrente, sì, è giusta, guardatela, guardo se ho qualcosa da fare come il contouring, oh no, sta uscendo, no, no, sta uscendo, oddio, sta uscendo, abbiamo un pezzettino uscita, oddio, aspetta, ho un pezzo uscita, come facciamo qui, dobbiamo riparare, aspetta, è uscito un pezzettino, guarda, è bella, è addirittura bella, sta un po' guarda, sta uscendo, ma perché è questo, scempio, adesso quando la vedi, c'è tutto, dai mettiamole in frigo prima che sia troppo tardi, ho l'amburia da mettere, però le pesche, a me adesso, questa mette adesso un po' come conturine, se non si muove, è un po' molle, però, no, no, niente, sopra niente, sopra, niente, mettiamola in, guardate, adesso la mettiamo in frigo tra due, ci rivediamo, forse, magari non si compatta, niente ragazzi, ci vediamo tra due ore per l'assaggio in diretta della torta, ciao!